Ladri poco solidali, quelli entrati nella scorsa notte nel locale Isla Bonita di Viale Ruggeri a Fano. Oltre al fondo cassa di appena un centinaio di euro, si sono portati via anche il contenitore con le offerte proterremotati. Nota e tempo, i gnoti si sono introdotti nel locale entrando da un ingresso sul retro del locale, rompendo presumibilmente, viste le tracce lasciate sul posto con un grosso sasso, una vetrata antisfondamento ed agendo poi sul maniglione antipanico. Una volta all'interno del locale sono andati dritti al cassetto della cassa e rovistato in lungo e in largo, portando via dal frigo e dal bancone anche diverse bottiglie di birra e liquori e lasciando evidenti tracce sia del loro passaggio che della loro via di fuga con un'evidente manata sulla vetrata d'ingresso, oggetto ora di attento esame da parte dei carabinieri di Fano che stanno indagando sull'effrazione. Già la seconda volta, almeno la prima volta hanno provato ad entrare, questa volta invece ci sono riusciti e hanno fatto danno, sì. Al di là del danno e dell'importo economico, che comunque è sempre rilevante, rimane un po' l'amarezza per questi episodi? Assolutamente sì, anche perché non sai più che cosa pensare. Mi chiedevano il fatto che fossi magari arrabbiata che mi avevano aperto un locale di fianco. Ho detto no, anzi meglio perché qui in questa zona della Sassolia 3 veramente siamo un pochino abbandonati. è una zona abbastanza decentrata e abbastanza probabilmente a rischio di queste cose. Quindi con il locale di fianco c'è un pochino più di movimento e sono ben felice di questa cosa. ecco.